Va al Teramo un po' a sorpresa ma sicuramente con merito il derby di Coppa Italia contro il Pescara. Finisce 1-0 per i Biancorossi nell'antipasto della sfida di campionato che si giocherà il 13 novembre allo Stadio Adriatico. I biancazzurri hanno deluso al cospetto della formazione di guidi apparsa sicuramente più motivata. Derby vero al Bonolis con bella coreografia nelle due curve. Il tecnico di casa con diversi indisponibili manda in campo una formazione quasi obbligata in portaci Agostini in attacco montaperto. Autieri risponde con un 3-4-3 in porta sorpresa Varadaelli e centrocampo si rivede Val di Fiori. 1.500 gli spettatori sugli spalti con quasi 400 sostenitori pescaresi. Il primo tiro in porta della gara è Biancorosso con Lombardo che al terzo chiama alla parata centrale il portiere Biancazzurro. Risposta ospita al sesto con Iglianes che sugli sviluppi di un angolo in area alza di poco il pallone sopra la traversa. Teramo molto aggressivo in avvio. Al 23esimo Brivido in area ospite con Radaeli che salva. La gara è molto combattuta ma con pochi acuti. Al 31esimo si rivede la formazione Biancazzurra con il cross di Zappella ed il colpo di testa di Marilungo schierato come punta centrale che mette a lato. Subito dopo Buato, Cato Duro in precedenza è costretto a lasciare il campo a Viero. Al 36esimo sembra fatta per il Diavolo ma Bernardotto in area mette incredibilmente a lato. Meglio la formazione di Guidi al cospetto di un delfino piuttosto macchinoso. Logica a conseguenza lo 0-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa pronti via e al sesto Teramo in gol con Viero che approfitta di una colossale dormita della difesa ospite mettendo quasi indisturbato in gol dopo il cross di Aziumanovic. Festa grande davanti alla panchina di Guidi mentre resta impietrito Auteri che poco dopo all'undicesimo cerca di correre a ripari richiamando in panchina Marilungo e Valdifiori per Bocic e Pompetti. La risposta di Guidi arriva con l'ingresso sul terreno di gioco di Birlige e Malotti al posto di Rosso e Montaperto. Prova a scuotersi il Pescara che al 17esimo ha una colossale occasione dopo un pallone perso da Mungo con Giambò che però non ne approfitta mandando la palla sopra la traversa. Il Teramo non pago del vantaggio al 21esimo si rende ancora pericoloso con Radaelli che dice no a Mungo. Male la squadra pescarese con al 25esimo l'ingresso in campo anche di Ferrari e Rizzo al posto di Rauti e Frascatore. Ma nonostante i cambi il Delfino rischia di incassare la seconda rete con Mungo che al 28esimo si divora il 2-0. Alla mezz'ora la squadra di casa resta però in 10 per il secondo giallo a Bellucci colpevole di un fallo su Bocic. L'ultimo quarto d'ora vede l'assalto del Pescara ma l'occasionissima del 2-0 capita sui piedi di Birligea che calcia su Radaelli. Al 91esimo Festa Bianco-Rossa e Pescara al rapporto dei propri tifosi. Da oggi si torna però a pensare al campionato con Teramo-Fermana di domenica ed il posticipo di lunedì Cesena-Pescara.